ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video benvenuti sul canale io sono daniele e faccio l'apicoltore in questa serie che è pillole di apicoltura cd io spiego un po come funziona l'organismo il super organismo alveare come sono composti gli elementi che formano il super organismo quindi tutte le api e vari tipi di api che ci sono all'interno e soprattutto spiego anche come funziona la loro comunicazione e loro modo di operare se non avete visto il video precedente vi consiglio di guardarvi la playlist dedicate a pillole di apicoltura cd che la trovate linkata in alto o sotto nella descrizione e in questo video di oggi parleremo della famosissima danza delle api che è un metodo assolutamente incredibile di comunicare delle nostre api bene allora voi sapete benissimo che le api hanno svariati modi di comunicare la prima curiosità che magari non a tutti salta all'occhio è che le api sia nei nidi naturali che in quelli artificiali che gli forniamo noi apicoltori che sono le nostre arnie riescono a comunicare perfettamente in un luogo assolutamente buio quindi immaginiamoci dentro la cassetta delle api o dentro un tronco di un albero o dentro un muro comunque in una zona molto protetta le api formano il loro nido e in questo luogo che è assolutamente privo di luce loro riescono comunque a comunicare senza nessun tipo di problemi e il modo di comunicare delle api è un modo complesso che riesce a fornire informazioni precise ma veniamo più nel dettaglio riguardo a questo modo di comunicare abbiamo due danze delle api c'è la danza circolare oppure la danza dell'addome allora tutte e due le danze vengono utilizzate in svariate situazioni all'inizio si pensava che venissero utilizzate per segnalare una fonte di cibo o di acqua ma si è scoperto che questa stessa danza viene utilizzata anche dalle api esploratrici per localizzare e per fornire un'opportunità per fondare una nuova colonia quindi nella sciamatura viene utilizzata la stessa identica danza adesso entriamo un pochino nel dettaglio per vedere quali sono le differenze allora se la fonte di cibo è vicina quindi si stima inferiore a una distanza di 80 metri quindi più vicina di 80 metri l'ape bottinatrice che rientra nel nido inscenerà la danza circolare quindi questa appena rientrata si posizionerà sul favo dove ci sono le altre api bottinatrici e comincerà a girare su se stessa in maniera molto eccitata questo movimento attirerà l'attenzione delle altre api che sentiranno le vibrazioni sul favo e si avvicineranno alla nostra api che sta inscenando la sua danza per comunicare alle altre api che vicino al nido ci deve essere per forza una fonte di nettare molto appetitosa come fanno le api a riconoscere questa fonte di nettare semplicemente l'ape che è ritornata dentro che sta inscenando la sua danza avrà addosso tutti i profumi del fiore che ha appena visitato e con lo scambio di nettare tramite la trofallassi fornirà tutte le informazioni dettagliate per andare a prendere altro nettare tutte insieme ecco questo tipo di danza è diciamo così è quella più semplice quindi il messaggio praticamente è ragazzi uscite che qua vicino c'è una fonte di nettare molto appetitosa questo è il nettare questo è il profumo uscite subito questo è il messaggio che l'ape dà immediatamente alle sue compagne quando la fonte di cibo invece è più lontana le informazioni da comunicare sono maggiori ovviamente perché sappiamo che le api bottinatrici possono spostarsi fino a un raggio di 3 chilometri in caso di carestia questo raggio può anche allungarsi fino a 4 o 5 chilometri quindi per una distanza così immaginiamoci un raggio di 4 o 5 chilometri le informazioni da fornire devono essere per forza più dettagliate rispetto a una fonte di nettare vicina la danza dell'addome è quel ma quel modo di comunicare che può fornire tutte le informazioni di cui le api hanno bisogno ma come si svolge questa danza allora la bottinatrice rientra carica del suo bottino quindi carica di nettare e carica di polline carica del profumo del fiore che ha appena visitato quindi quest'essenza molto importante da un messaggio chiaro su cosa cercare e l'ape comincia a fare una danza circolare che però è a forma di 8 quindi farà un tratto rettilineo poi girerà a destra ripeterà il tratto rettilineo e poi girerà a sinistra e così via quindi continuerà a fare questo questo specie di una volta a destra una volta a sinistra mentre fa il tratto rettilineo comincerà a scodinzolare molto 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 velocemente le immagini viste rallentatore da diversi studi fatti negli anni 50 negli anni 60 mostrano che quando l'ape scodinzola si ferma per un istante trasmettendo le vibrazioni sul favo che esagono per esagono si diffondono alle altre api le altre api che si avvicinano vedendo questo movimento vengono eccitate ulteriormente da quest'ape qua che sta comunicando con frenesia il luogo che ha appena scoperto fornisce tutte le informazioni di cui hanno bisogno ma in che senso allora praticamente nella parte rettilinea quando l'ape si ferma a scodinzolare ci sono intensità diverse quindi se il modo di scodinzolare è particolarmente intenso significa che la fonte di nettare è molto buona e molto abbondante il tempo che impiega per correre il tratto verticale indica la distanza si stima che se l'ape scodinzola per un secondo la distanza si aggiri più o meno ad un chilometro se invece sono due secondi non sono più due chilometri ma sono maggiori perché il tempo trascorso nel tratto rettilineo è esponenziale rispetto alla distanza quindi un secondo è un chilometro due secondi sono maggiore di due chilometri fino ad arrivare alla distanza prefissata la direzione invece viene data dalla verticale rispetto al favo quindi qui c'è il favo la verticale quindi loro sentono la verticale come la gravità e la direzione invece del tratto rettilineo indica invece l'angolo che le api bottinatrici dovranno considerare per prendere la direzione rispetto al sole questa è veramente una cosa sconcertante perché se ci pensiamo bene le api hanno la capacità di misurare la distanza di misurare un angolo rispetto al sole che è un astro che non sta fermo in cielo ma sappiamo bene che si muove quindi devono avere anche un sistema di compensazione del movimento del sole perché negli studi si è visto che le danze possono perdurare anche per ore quindi il sole non è che sta sempre fermo nello stesso punto per diverse ore quindi le api hanno questo sistema di compensazione sanno che il sole si muove sanno che se la danza viene fatta a una certa ora per due ora mettiamo il sole si sarà spostato di un certo periodo quindi hanno veramente una grande intelligenza soprattutto riescono anche a codificare questa questa distanza e questo angolo di percorrenza rispetto al sole anche quando il sole è coperto perché pensiamo magari che ad esempio il sole possa essere nascosto dietro una collina o possa essere nascosto dietro una costruzione o dietro una nuvola oppure il cielo è coperto ci sono tante situazioni quindi anche in questi casi le api riescono comunque ad individuare la fonte di nettere perché evidentemente hanno dentro i loro organi e dentro i loro organi sensoriali un sistema che possa individuare la direzione della fonte di luce del sole io penso che sia veramente una cosa incredibile per ogni apicoltore che vede su un favo magari 10 o 15 api che stanno facendo la danza è veramente uno spettacolo magnifico uno perché è proprio bello da vedere è proprio una cosa che trasmette euforia e felicità e due perché sappiamo che quando c'è questo modo di comunicare le api stanno bene e vivono nell'abbondanza di cibo e non hanno problemi di sostentamento quando invece la danza viene fatta in concomitanza con la sciamatura lo stesso modo di comunicare viene utilizzato per fornire una posizione eventuale per poter fondare una nuova colonia quindi noi sappiamo che le api sciamano in primavera quando c'è la nuova regina nata se non sapete il meccanismo della sciamatura anche qui vi rimando alla playlist pillole di apicoltura cd dove potete avere tutte queste nozioni quando è avvenuta la sciamatura le api di solito fanno un periodo di sosta che può variare da qualche ora fino a qualche giorno aggrappate inglomere sopra un qualche ramo le api quindi escono dalla cassetta con la regina e si vanno a posizionare su un ramo di un albero che in genere è sempre lo stesso anche qui continua a rientrare in gioco la comunicazione quindi io so che le mie api quando sciamano vanno il 90 per cento delle volte sempre sullo stesso rametto sempre sullo stesso albero quindi anche lì ci devono essere dei segnali che indicano che quello è il punto di sosta della sciamatura una volta che sono lì appese al ramo tutte inglomere partono una serie di api esploratrici che cercano una nuova posizione sicura che abbia determinate caratteristiche che sia esposta al sole che sia protetta che sia a una certa altezza che sia protetta dai venti insomma le api esploratrice partono per cercare una nuova una nuova casa quando vengono quando sono di ritorno ogni api esploratrice effettua la danza circolare con la vibrazione dell'addome per indicare la distanza e la posizione della nuova casa che hanno individuato a questo punto il super organismo deve prendere una decisione deve capire qual è tra le varie offerte quella che sia la migliore negli studi svolti sempre negli anni 60 si è arrivati a contare fino a 21 opportunità diverse fornite dalle api esploratrici questa io penso che sia veramente una cosa una cosa che lascia quantomeno basiti perché cioè non è che partono a casaccio ci fermiamo in un posto dove dove troviamo troviamo no cioè qua proprio è una cosa studiata a tavolino e tra l'altro il super organismo a questo punto deve decidere dove direzionarsi tra queste 21 offerte e quindi le api esploratrici allora rientrano comunicano la posizione che hanno trovato ripartono ogni api esploratrice va a visitare il posto i proposti dalle altre e alla fine loro si rendono conto che effettivamente il posto visitato dalla collega dalla sorella è migliore di quello che ho trovato io quindi ritornano rieffettuano di nuovamente la danza fino a quando la maggioranza delle api ha deciso che il posto migliore è direzionato verso una parte a questo punto l'intero sciame partirà insieme alla regina a formare nuova colonia per me ragazzi questo è veramente qualcosa di incredibile quasi miracoloso oserei dire perché ci dà veramente l'idea di quanto sia complesso il mondo delle api e di quanto sia incredibile riuscire a studiarlo e come noi che lavoriamo con loro quanto sia quanto siamo fortunati ad essere così vicini a questi atteggiamenti che le api adottano ogni anno nei prossimi video vorrei parlarvi anche della della covata che rispecchia la serie di fibonacci e vorrei parlarvi anche di altre cose molto particolari e molto curiose su quello che riusciamo a vedere nelle api e in questo in questi insetti che sono veramente incredibili come al solito io ragazzi spero di avervi dato informazioni importanti e preziose per voi di avervi tolto delle curiosità magari di avervi fatto conoscere cose che ancora non conoscevate come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale e di condividere mettere un bel like al video se vi è piaciuto e come al solito noi ci vediamo alla prossima e vi saluto ciao 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 Grazie a tutti.